Grazie Presidente, anche questa mozione era stata ispirata a una giornata internazionale dell'ONU, quella dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e voleva rappresentare quanto poco siamo sensibilizzati nei confronti di immagini che utilizzano la figura dei bambini in modo non appropriato. Purtroppo siamo abituati a considerare l'immagine dell'infanzia come qualcosa di neutro di per sé, purtroppo non è così, la pubblicità commerciale sa bene che quando compare un bambino il prodotto si vende di più e molto spesso l'immagine del bambino non è rispettata nella sua innocenza. veramente abbiamo perso anche i parametri per capire quante volte questo accada. Allora, sempre per non pensare a degli interventi repressivi ma piuttosto propositivi e premiali, si chiede che venga istituito un riconoscimento per le aziende che nel rispetto di linee di guida individuate dall'osservatorio pubblicità che è stato aperto su impulso della Commissione delle Lette, quelle aziende che valorizzino per la loro pubblicità delle immagini di bambini in modo che sia una narrazione comunicativa rispettosa, che questo riconoscimento sia accordato attraverso un comitato specifico che a titolo non oneroso per Roma Capitale sia costituito da esperti rappresentanti delle istituzioni e della società civile e che tale riconoscimento sia soltanto così simbolico eventualmente con l'apporto di mecenati. Grazie.